Si inserisce a Costi, cerca il cross, il gol, il gol della Fiorentina, il gol della Fiorentina con Iemmello, il gol di Iemmello, che è riuscito ad avere la meglio sulla pressione di Albertazzi, poi al resto ha pensato Iemmello. L'Italia dall'altra parte, davvero una bella partita ora, colpo su colpo, il destro e la rete, il vantaggio davvero bello, il gol di Iemmello, battuto Edwards. I cani hanno sfruttato male le occasioni, mentre invece fortunatamente Iemmello ha fatto una grande cosa, ha fintato il tiro portandosi avanti la palla e poi ha calciato. Grazie.